Vabbè, signori, Aldeguer oggi ha fatto un capolavoro, eh. Cioè, porco, due ha fatto... Aspetta, scusate, abbassa un po' il volume perché è un po' troppo alto e non mi sento, magari. Ok, madonna, 50 l'ha messa mio padre. Vabbè, ha fatto un capolavoro Aldeguer oggi, cioè, proprio a costa non ha avuto nulla proprio da fare. Però, tutti e due, primo e secondo da inizio gara, c'entra, vabbè, gara di casa, comunque incitato, comunque bravo gara. Arbolino, meno male, pensavo che con quella partenza, con quegli errori, avrebbe fatto una gara molto brutta, invece alla fine ha fatto quarto. Però, diciamo, dai, ancora sta regge, il mondiale non è chiuso, però è difficilissimo, meno 63, però adesso la seconda posizione è in classifica, matematicamente fatta, praticamente, per Arbolino, con qua Aldeguer, che vince. Eh, vabbè, se paghi, probabilmente, a Pedro vincerà, cioè, non è che ci sia molto da fare. Però, diciamo, per centra, sto contento che ha fatto podio qua a casa sua. E vabbè, testa alla prossima, per Arbolino, anche se è impossibile, però vabbè.